Francesco Moriero studia il lecce che potrebbe regalare a lui e alla tifoseria giallorossa la prima vittoria in campionato. Un successo che permetterebbe alla famiglia Tesoro, almeno per il momento, di interrompere tutti i contatti ancora attivi con altri tecnici candidati alla panchina che più scricchiola nel girone B di prima divisione. Allenamenti a porte chiuse e squadre in ritiro. Dopo tre sconfitte consecutive società e tecnico hanno adottato la linea dura per tenere concentrata la squadra, anzi una rosa molto ampia arricchita in queste ultime ore dagli arrivi di Walter Lopez e Gabriel Sacilotto. Antonio Tesoro pesca ancora tra gli svincolati offrendo a Moriero soluzioni non immediate forse mai attuabili dall'attuale tecnico giallorosso e si spera condivisibili da future guide tecniche. L'allenatore leccese potrebbe fare esordire dal primo minuto l'ultimo arrivato Walter Lopez, poliedrico laterale sinistro. L'uruguayano potrebbe essere impiegato in difesa al posto dell'infortunato rullo, scartando così altre opzioni che sembrano non convincere Moriero. Nunzell e Sales, quest'ultimo adattato al ruolo di terzino sinistro. Sempre per la difesa, Ferrero potrebbe essere preferito a Vineto. Un altro debutto potrebbe essere quello di Nicola Samodio in un centrocampo che si presenterà con una linea A4 completata da Ferrera, Pinto e Bellazzini esterni, mentre Salvi affiancherà Amodio al centro. Non è escluso che Ferrera, Pinto lasci il posto a Melara. Altra novità, si dovrebbe registrare in attacco dove Micoli potrebbe agire insieme a Beretta e non Zigoni, fin qui sempre titolare. Il Lecce dovrebbe schierarsi con Peruchini in porta, D'Ambrosio, Ferrero, Martinez e uno tra Walter Lopez o Nunzell in difesa, Ferrera, Pinto, Salvi, Amodio e Bellazzini a centro campo, Micoli e Beretta in attacco. Ipotesi e soluzioni che stanno caratterizzando la vigilia più lunga per Francesco Moriero, il quale non immaginava una partenza catastrofica della propria squadra, ultima in classifica a zero punti e con una crisi di identità che non fa intravedere alcun barlume di speranza. Le invenzioni dei singoli a Salerno e a Benevento non sono mancate le occasioni per i giallorossi, continueranno a non bastare se la difesa non farà adeguate barricate, aiutata magari da una manovra corale che finalmente metterà il Lecce sulla strada giusta. Lecce e Moriero sono ad un bivio a decidere la partita con il Catanzaro e successivamente la società per la quale invece deciderà il campionato.